Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, buona vista al vostro Hector Elio di Lapegna Valguena e Spindosa de Santiago de Compostelle Spagnoli A tutti ragazzi, allegria, allegramente, benvenuti in un nuovissimo video La Lazio ha vinto, ce l'ha fatta, ha battuto per un alzare il Cagliari grazie al gol straordinario di Re Ciro Immobile Partita molto bella, dominata fin dall'inizio dalla compagine bianco-celeste che prova in più occasioni con Ciro Immobile, Correa e Luis Alberto a segnare Ma alla fine riesce a trovare il gol, comunque grazie a un assist supremo di Milinkovic e Savic Quindi, ci abbiamo fatta, siamo molto felici Pensavo che mi telefonasse Luca, aspetto una sua telefonata, però terminiamo il video, guarda che è meglio E noi siamo lanciati, vogliamo assolutamente battere l'Inter Occhio inderisti, questo è un avviso a voi Dovrete sudare sette camicie se volete batterci a Milano, ma non ce la farete perché vinceremo noi A presto la vostra Ectorelio della Pegna Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostelle Spagnoli A tutti ragazzi, vi ringrazio sempre e comunque Forza Lazio Bella a tutti i belli e brutti, a presto E buona la prima